buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti quanti signori buon pomeriggio a tutti quanti allora l'orario delle live da oggi in poi sarà dalle 5 di pomeriggio fino alle 6 di pomeriggio ok così almeno magari c'è un po più di possibilità che un po più di voi si colleghino siamo su lego fortnite perché perché ho voluto costruire il mio villaggio che attualmente fa schifo che è sta roba attualmente fa schifo il mio villaggio e lo volevo continuare un po con voi volevo fare un po di missioni un po di robe questa musica però gemiti non insultatemi perché gioca le fortnite assolutamente no allora questo nodo nodo torto che cacchio è allora qui mi dice che è un legno robusto che si trova nelle caverne facciamo l'ascia così almeno siamo preparati se arrivano qualche qualche mob se arriva qualcuno non ho capito ma se io dormo ok perché mi hai lasciato le ascia l'immortalci tua ma se io dormo cosa succede cioè succede che praticamente passa tipo minecraft passa la notte ma perché dormono tutti quanti perché ho visto che praticamente non succedeva vediamo se succede adesso non succede non sta succedendo non sta succedendo signori non sta succedendo e questa cosa mi spaventa un pochino perché perché praticamente no su minecraft uno si mette a dormire passa la notte ok quindi mob se ne vanno a fancuber però i cari carissimi mob la notte vengono a rompermi le palle quindi praticamente non c'è non so come se non passa la notte quando dormi non so però io come come fare assi di legno qua per migliorare ci vogliono ci vogliono ci vogliono 15 assi di legno 25 di granito e sto nodo torto che non ho capito dove si trovano le caverne no veramente dove cacchi si trovano le caverne non ci diamo un modo che non la cimente non ci dà la cimente perfetto ma sta venendo giorno perfetto lui c'ho fame magari potremmo anche portare posso anche portare legno fornit magari con qualche mio amico non lo so perché io ho notato che praticamente legno fornit si può giocare anche da no con i mondi condivisi da quello che ho capito perché ti curi al prendere a marcia lasciate l'albero e che cari non so parlare non so veramente non so parlare ragazzi non so perché ma non so parlare noto che non è che come fornit come le mappe quelle tipo petto royale perché qua inventario di guai perché qua ti fa anche scegliere uno sotto vuoto quindi perché qua ci sono degli animaletti allora questi animaletti qua a vaffanbocano va dammi la carne no non scappare animaccia tua l'animaccia amore fatto spreca l'ascia e mo mori mori perché mi ha fatto spreca l'ascia mali mortacci tua no mori di morire mi dispiace di morire ma se non mi dava la coscia se non mi dava la bistecca madonna che gli facevo sto gioco quando gli facevo abbiamo 20 satti di legna dobbiamo prendere il granito queste rocce qua il granito ci servono a noi a me mi serve il granito che è sta roba oh madonna santissima mi serve il granito a me l'animale di mortacci tua non mi serve il legno mi serve il granito dove lo troviamo il granito non c'ho il piccone acqua perfetto oggi ragazzi questo arco di vertigine la merda oh madonna dei di muerto oddio o mio dio ricarica l'energia ricarica l'energia e ma che ca- no scusami tanto eh mo la mia sfiga da 1 a 10 voglio adesso mi devo dire la mia sfiga da 1 a 10 quant'è 35 solamente raccogliente del granito l'animale di mortacci tua via 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 no e dai mi stanzi che voi ma perché mi devi inseguire a me oh cazzo oh l'anima delle morti mie come faccio male no la logica di fornac lego angor madonna se vai vai la madosca la madosca vai via che bello porco demonio porco demonio eh